Storia di Iqbal, capitolo 9. Per due giorni non se ne seppe nulla. Appena scoperta la fuga, Usain organizzò parenti e amici, salirono sui loro furgoni Toyota e partirono per cercarlo, imprecando e facendo slittare le gomme sul fango delle strade. Restammo in ansia tutto il giorno, ogni momento guardavamo verso il cancello del cortile. Al tramonto Usain tornò, nero in volto, zuppo d'acqua e con gli stivali incrostati. Entrò nel laboratorio dove tutti stavamo a capochino sui telai. D'ora in poi, disse, lavorerete tutti un'ora in più al giorno, tutti i giorni. Con le sue stesse mani mise un'inferiata sulla finestrella del bagno e si fece consegnare le chiavi della porta da Karim. Con te faremo i conti dopo, minacciò. Karim era terrorizzato. Noi pensammo, ce l'ha fatta forse. Usain uscì anche il giorno dopo, ma rientrò che ancora il muezzin non aveva chiamato per la preghiera di mezzogiorno. Si chiuse in casa e non ne uscì. Lavorando pensavo a Eqbal, che forse era riuscito a raggiungere casa sua e a riabbracciare i genitori. Ma là il padrone sarebbe andato di sicuro a cercarlo e avrebbe minacciato suo padre e sua madre di mandarli in prigione per debiti, se non glielo avessero riconsegnato. Forse era ancora in città, nascosto da qualche parte. Dove avrebbe dormito? Cosa avrebbe mangiato? È in gamba, mi dicevo, se la caverà. Poi ricordavo quella sua promessa. A primavera io e te andremo a giocare con l'aquilone. Avrei voluto tanto che fosse vero, ma non mi facevo illusioni. Ne parlavo con la piccola Maria, come se lei fosse stata in grado di capirmi e di rispondermi, magari di consolarmi. Sai cos'è un aquilone, Maria? Ci hai mai giocato? Lei non rispondeva naturalmente. È bello, sai? Tu corri e l'aquilone sale sempre più in alto nel cielo. Certe volte arriva a toccare le nuvole e salta e sbanda a seconda del vento. Devi stare attenta però. Guai se lasci andare il filo. Lo perdi e dopo un po' non c'è più. A me è capitato una volta. Ero troppo piccola e inesperta. Mi è dispiaciuto moltissimo. Certo, poi ho anche pianto, ma sul momento, vederlo salire sempre più su, sempre più su, fino a essere inghiottito dal cielo, non era stato brutto. Ho pensato, chissà dove finirà, vorrei andare anch'io con lui. Quella notte feci sogni agitati. Ogni tanto gli spiriti mi tiravano i piedi e mi svegliavano. Il mattino del terzo giorno avevamo appena avviato i telai quando un vicino di Hussain entrò di corsa nel nostro cortile, prese in disparte il padrone e gli parlò gesticolando e agitando le mani. Sembrava spaventato. Hussain e la padrone entrarono nel laboratorio. Ci dissero di lasciare tutto com'era. Ci fecero attraversare il cortile a spintoni gridando svelti, svelti. Spalancarono la porta di ferro arrugginito che portava alla tomba e ci obbligarono ad ammucchiarci lungo le scale. Restate qua, ci intimò Hussain. Guai a voi se fiatate. Qualcuno stava bussando al portone d'ingresso. Ero rimasta intrappolata a metà scala. Cosa succede? Chiesi a quelli davanti. Non riesco a vedere bene, rispose qualcuno. Ma adesso il padrone è andato ad aprire. C'è gente. Sembra un poliziotto. Ci sono due poliziotti. E c'è anche Iqbal con loro. Mi feci largo a spintoni fino all'ultimo gradino. Misi l'occhio contro un buco rugginoso della vecchia porta. Ed era vero. C'erano due poliziotti, grassi, lustri e con degli enormi baffi neri. Indossavano delle divise stazionate e unte e avevano la pancia che sporgeva dalla cintura dei pantaloni. Ma erano comunque poliziotti. In mezzo a loro c'era Iqbal. Hussain se ne stava in atteggiamento ossequioso, con il capo leggermente chinato e si strofinava le mani. Accanto a lui, la padrona tormentava un lembo del suo grembiule. Vedi Iqbal alzare un braccio e puntare il dito verso il laboratorio. I poliziotti attraversarono il cortile con grande calma e cercando di schivare le pozzanghere. Si affacciarono, diedero un'occhiata all'interno, si consultarono tra di loro e chiesero qualcosa a Hussain. Lui cominciò a parlare fitto fitto, sempre con aria umile e ogni tanto si rivolgeva alla moglie come a chiedere conferma di quanto stava dicendo. Cosa sta succedendo? chiedevano da dietro. Non lo so, non riesco a sentire cosa si dicono, risposi. Ma secondo me Iqbal ha denunciato il padrone. Lo ha denunciato? Vuoi dire che adesso lo mettono in prigione? State zitti! Adesso Hussain si era infervorato nel discorso e faceva ampi gesti con le mani. I poliziotti sembravano annoiati. Uno diede una sbirciatina a un vecchio orologio a cipolla. Hussain prese una mano di Iqbal e lo attirò a sé. Lui cercò di puntare i piedi. Hussain gli fece una specie di ruvida carezza sui capelli, disse ancora qualcosa ai poliziotti, affidò Iqbal a sua moglie e le fece segno di portarlo in casa. No! urlò Iqbal, no! E poi disse ancora qualcosa che si confuse con il rombo di un tuono e che non riuscì a sentire. Cosa succede? chiedevano dietro. Cosa succede, Fatima? Non capisco. Hanno ridato Iqbal a Hussain. Ma come? Non lo arrestano? Vidi Iqbal urlare e agitarsi per cercare di sottrarsi alla stretta della padrona, fino a quando non scomparve all'interno della casa. Venne giù uno scroscio di pioggia. I poliziotti avevano fretta. Alle mie spalle era tutto un agitarsi di voci, ma quasi non le sentivo, incredula com'ero davanti a ciò che vedevo. Hussain infilò una mano nella fascia che gli stringeva la vita. Ne estrasse un grosso rotolo di banconote, ne contò un mucchietto e lo diede al primo poliziotto. Poi ne contò un mucchietto più piccolo e lo diede al secondo. Loro annuirono con aria soddisfatta. Si tirarono i baffi, infilarono i soldi in tasca e se ne andarono sotto la pioggia. Giù nella scala buia eravamo tutti ammutoliti. Dentro la casa dei padroni Iqbal continuava a gridare, ma non serviva a niente. Era come vivere in un brutto sogno che non finisce mai. Facevo le cose di tutti i giorni, ma quasi senza accorgermene. Sveglia, pipì, la mia finestrella ormai era chiusa per sempre e comunque non avevo più voglia di saltare. Colazione, lavoro, 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 fino a quando arrivava l'ora di coricarci. Piangevo un po', pensando a Iqbal chiuso un'altra volta là sotto. Cadevo in un sonno pesante, mi svegliavo di colpo e non era cambiato niente. C'era ancora la pioggia che martellava il tetto di lamiera e si infiltrava dappertutto. Ero ancora prigioniera. Iqbal era ancora nella tomba e questa volta non potevamo uscire di notte per alleviare le sue sofferenze. Morirà, pensavo. Poche ore dopo la visita dei poliziotti, Usain Khan era partito per un viaggio d'affari. Aveva convocato Karim davanti a tutti noi e gli aveva detto, al mio ritorno misurerò il lavoro di tutti. Bada, solo tu sarai ritenuto responsabile di quanto avranno prodotto. Sì, padrone, sì, padrone, continuava a ripetere Karim. E quanto a quello laggiù? Sì? Lasciacelo. Sì, padrone. Karim era impazzito dalla paura e non ci dava un attimo di sosta, non ci permetteva la minima distrazione. «Voi volete la mia rovina?» continuava a ripetere. «Ma non ve lo permetterò. Lavorate, lavorate!» Persi il senso del tempo. Quanti giorni passarono? Quattro, cinque, sei? Iqbal era sempre là sotto. Morirà, lo so. Non ci trovavamo più di notte per parlare. Nessuno ne aveva voglia e poi a cosa serviva. Prima dell'arrivo di Iqbal accettavo quella vita con rassegnazione perché neppure potevo immaginare che ce ne fosse una diversa. Iqbal aveva riacceso la speranza in tutti noi. Adesso la delusione era troppo forte. Lui non avrebbe potuto fare più niente e nessuno di noi aveva abbastanza coraggio per ribellarsi ancora a Usain. Morirà, pensavo, e io sarò ancora più sola. Usain Khan ritornò di venerdì, il giorno santo dedicato al riposo per tutti, tranne che per noi. Si cambiò d'abito, salutò i vicini che erano venuti a trovarlo e a chiedergli come era stato il viaggio e come erano andati gli affari. Si affacciò brevemente sulla porta del laboratorio, comunicò severamente a Karim che dopo pranzo avrebbe misurato il nostro lavoro di quei giorni e andò a mangiare. A noi non venne concessa neanche la consueta pausa. Dovete portarvi avanti col lavoro, gridava Karim sudato e stravolto, altrimenti il padrone se la prenderà con me. Lavoravo e cercavo di non sentire i morsi della fame. Dalla casa dei padroni arrivava pungente l'odore dello stufato di montone piccante. L'avevo mangiato due o tre volte. Al villaggio le donne lo preparavano in occasione di qualche importante festa. Il giorno di Cotiaid, per esempio. E guai se non bruciava la lingua e la gola. Gli uomini non lo apprezzavano. Era carne grassa, saporita. Lavora. E magari avevano anche dei dolci, le frittelle con la ricotta, rotolate nello zucchero scuro e nella cannella. Lavora. Avevo fame. Ero stanca. Ero disperata. Il padrone arrivò stuzzicandosi i denti con uno stecchino. Noi ci fermammo e ognuno si mise in piedi accanto al proprio telaio. Usain Khan si massaggiò le reni, prese il metro da sarto e un foglio su cui aveva assegnato a che punto del lavoro eravamo prima della sua partenza e con grande calma cominciò a misurare. Poi prendeva la lavagna e decideva. Tre segni in meno, quattro segni in meno, neanche un segno perché il lavoro non era fatto bene. Nessuno osava protestare. Il padrone procedeva lentamente nei suoi conteggi. Karim gli stava appiccicato alle calcagna con l'aria di un cane che spera nell'osso. Dopo la sentenza tutti abbassavano la testa rassegnati. Salman? Un solo segno cancellato. Ali? È un pasticcio, neanche un segno. E il piccolo Ali non riuscì a trattenere le lacrime. Muhammad? Tre segni e lui emise un fischio di sollievo. Era quasi il mio turno. Maria? Usain Khan si fermò davanti al telaio della piccola Maria. Strabuzzò gli occhi. Fulminò con lo sguardo Karim che non capiva e uggiulava per il terrore. E questo cos'è? Ruggì Usain Khan. Io non lo so padrone, io... balbettò Karim. Andiamo tutti a vedere. Niente avrebbe potuto trattenerci. A Maria, da sempre, venivano assegnati i lavori più facili. I tappeti che non richiedevano nessuna abilità, con dei disegni geometrici semplici semplici. Non era forte lei e nemmeno molto sveglia. Sarà stata colpa della sua sordità o di quello che aveva. Usain Khan diceva sempre che la manteneva per carità, ma non era vero. Anche lei faceva la sua parte di lavoro. Ci ammassammo davanti al suo telaio. In tutti quei giorni, approfittando del fatto che nessuno le badava e che anche Karim si comportava come se non esistesse, Maria aveva cambiato il motivo del suo tappeto. Adesso, nel bel mezzo della trama, anziché una semplicissima decorazione a righe gialle e rosse, spiccava un disegno. Era un aquilone. Un aquilone grande, bianco, con dei lunghi pennacchi attaccati alla coda, che sembravano mossi dal vento, e un filo sottilissimo che scendeva giù giù e tutto attorno delle manciate di azzurro che erano nuvole. Era bellissimo. Maria stava in piedi accanto al suo disegno. Sembrava ancora più piccola e minuta e indifesa. Usain Khan aveva la bocca spalancata. Fece per dire qualcosa e non ci riuscì. Guardò Karim, guardò tutti noi, guardò fuori dalla porta come a cercare il sostegno della padrona. Adesso schiatta per la rabbia, pensammo tutti. Usain Khan disse l'unica cosa che sapeva dire con un rantolo di voce. Nella tomba! Anche tu nella tomba! Distinto, tutti ci stringemmo attorno a lui. Maria era troppo debole e delicata per resistere nella tomba anche un solo giorno e lo sapeva anche Usain. Nella tomba! Ripetè, ma non sembrava molto sicuro. Fate qualcosa! Urlai dentro la testa. Per pietà qualcuno faccia qualcosa! Usain allungò la sua zampa verso Maria. Vidi con la coda dell'occhio Salman, che sgomitando in mezzo agli altri ragazzi, si portava in prima fila. Se mandi lei, disse cercando di mantenere ferma la voce, allora manda anche me. Che cosa? Che cosa? Ho detto, punisci anche me! Nonostante la faccia butterata e le mani ruvide come carta vetrata, Salman in quel momento mi parve bellissimo. Beh, che cavolo! Disse Muhammad e subito si emozionò e cominciò a incespicare nelle parole. Allora... E dai! Lo incoraggiarono da dietro. Manda anche me! Concluse faticosamente. Si guardò intorno soddisfatto, come se avesse fatto chissà che discorso. Si grattò la testa, sputtò in terra come faceva sempre Karim, anche se a dire il vero non gli uscì un filo di saliva. Un attimo dopo eravamo tutti con la mano alzata e gridavamo manda anche me! Manda anche me! Gridava anche il piccolo Ali, barricato come sempre, dietro la mia sottana. Usain Khan era pallido. Si agitò di qua e di là, incerto sul da farsi. Cercò di coprire le nostre voci e non ci riuscì. Era chiaro che in quel momento ci odiava e che avrebbe voluto vederci tutti morti. Ma si rendeva conto, perfino lui, che questo non era possibile. E alla fine scappò. Non credevamo ai nostri occhi. Usain Khan battè in ritirata, biascicando vane minacce, inseguito dai nostri urli e dalle nostre pernacchie. Karim si eclissò con lui. Un'ora dopo, Iqbal era di nuovo tra noi, dopo sei giorni nella tomba. Molto provato, molto pallido, molto affamato, ma vivo.